Lavori senza fine sulla Siracusa Gela, nuovo stop di 14 giorni interdetta arteria tra Rosalini e Ispica. Ancora lavori sulla Siracusa Gela, l'autostrada gestita dal Consorzio Autostrada Siciliana. Secondo quanto comunicato dall'azienda, a partire dalle 16 del 30 ottobre fino alle 12 dell'8 novembre, sarà chiusa la carregiata in direzione Siracusa fra Rosalini e Ispica. Sarà contestualmente istituito il doppio senso di circolazione nella corrispondente carregiata di Monte, direzione Gela, al fine di proseguire e concludere i lavori di manutenzione tra lo svingolo di Rosalini e lo svingolo di Ispica-Pozzallo. Non è la prima volta nel corso di questi ultimi mesi che lo svingolo di Rosalini e più in generale tutta la zona sono oggetto di lavori e di interdizioni.